ciao a tutti io sono Gini e benvenuti in questo nuovo video che non è un video ma è un vlog estivo e come notate non cominciamo a casa questo vlog ma lo comincio in piscina in campania davanti alla piscina della campania sono troppo contenta e sono le luna 13 e 14 quindi luna al quarto e io ho fatto il bagno ma l'acqua era già vita quindi adesso stiamo aspettando che si riscalda dopo pranzato ci buttiamo di nuovo io ho il mio cappellino sexy autografato da rosolino in persona dove l'autografo che ne vado via il mio autografo è da qualche parte qui in mezzo è questo si vede dai ecco mio nonno sta cucinando perché a casa qui cucina più nonno in campania cucina nonno a casa cucina dipende perché cucinano tutti e due dai anche nonna cucina anche qui in campania però un po di meno e questo io a dopo questa è stelle campagna qui c'è la piscina gazobino lì c'è la casa e c'è un posto fuori dove mangiamo fornace ecco le mie gambe io si sono da prendere il sole perché sono bianca come una mozzarella finissimo ragazze nel telefono senza nessuna ho già impostati questi filtri tipo wow che cosa carina nonno io nonno io nonno nonno io non esce ciò che dico io a me devi guardare non lo so raga non mi è ok dovrebbe essere un gatto ma a me sembra una pecora con le cose queste orecchie sembra più da pecora che da gatto ma fa nulla ok mi sono fatto un altro bagno e ora penso che disegnirò perché non ho nulla a fare quindi a dopo non ho nulla a fare quindi non ho nulla a fare quindi non ho nulla a fare quindi non ho Mamma mia che madrelingua che sono, mamma mia, sono inglese naturale, faccio schifo in inglese, secondo me la mia maestra inglese mi ha messo un buon voto perché sennò abbassavo la media della classe, e ho detto tutto. Ok, ho mangiato tutto, di tutto ho mangiato, ho mangiato anche quello di mia mamma, vabbè, ti lascio questo dettaglio, ora guardate che mi svelo, svelo un segreto, a parte che questa non è una campagna ma è una billetta, mi raccomando, e guardate che vi faccio vedere, lui è Joe, e poi Aria, Aria, aspettate però che vi faccio vedere, eccola! E qua Aria, solitamente stanno liberi però questi due sono le stazioni, mi hanno oggi le ho messi un po' dentro, per farli giocare più comodi, vedete, guardate, ora vi faccio qualche cocco, la dopo, guardate quanto è contenta, ciao amore, amore è bello, lei si chiama Aria comunque, se non si è capito. Bene, faccio la finta che è la stessa giornata, anche se è un altro giornale, se lo passai tipo un mese, è passato, ma vabbè, e nulla, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, e nulla, ciao! 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 Grazie.